Iniziano oggi le vendite promozionali per quanto riguarda la Calabria, quali sono le previsioni e l'andamento? L'andamento rispetto all'anno precedente è positivo, nel senso che un'indagine per la propensione agli acquisti di commercio prevede un più 4% rispetto agli acquisti dello stesso periodo dei saldi di gennaio 2015. Quindi diciamo che per i commercianti dovrebbe essere un periodo migliore rispetto a quello dell'anno precedente. Diciamo che siamo al 55% rispetto al 51% dell'anno precedente. I cittadini comunque attendono questo periodo di saldi per fare degli acquisti, c'è molta attesa? C'è molta attesa, ci sono circa 25 milioni di famiglie in Italia, di questi 25 milioni di famiglie oltre la metà attende il periodo dei saldi proprio per effettuare degli acquisti più vantaggiosi. In particolare quali sono gli articoli maggiormente richiesti in questi periodi di vendita? Dunque la parte che è più di interesse per i consumatori chiaramente è l'abbigliamento con circa il 94%, quindi un 2% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente immediatamente dopo le calzature. E quanto più o meno si spenderà a famiglia? Quanto le famiglie intendono spendere in questo periodo? Sempre se le condo le indagini della Confcommercio, ogni famiglia spenderà all'incirca 346 euro. Sono circa 140 euro a persona, quindi c'è voglio dire una possibilità di acquisto forse anche rappresentata dalla disponibilità delle famiglie in merito al fatto che per esempio la tassa sulla TV viene adesso spalmata sulla bolletta, quindi non c'è questo assillo del pagamento al 31 gennaio e forse queste 100 euro in più alle famiglie possono tornare utili. In questo periodo sono molti esercenti che lamentano delle irregolarità, come ad esempio alcune attività commerciali iniziano con i saldi anche nel periodo prenatalizio o natalizio? Beh certo, questo purtroppo attiene a una dinamica di crisi molto accentuata che stiamo vivendo ormai da qualche anno. Sarebbe auspicabile che tutti si uniformassero invece a periodo di saldi prestabiliti.